Abruzzo, regione pilota in materia di dipendenze patologiche, ovvero quei comportamenti che da semplice abitudine diventano bisogno compulsivo del piacere attraverso mezzi, sostanze e comportamenti che sfociano appunto nella condizione patologica. Lo ha ricordato il presidente della regione Marco Marsilio nel presentare la prima giornata regionale dedicata al tema delle dipendenze in programma domani al Teatro Comunale di Atri. Siamo la prima e l'unica regione ad oggi ad aver fatto una legge regionale quadro per il contrasto alle dipendenze patologiche, la prima ad aver istituito un osservatorio che mette insieme diverse realtà, avete sentito oggi la soddisfazione, i ringraziamenti e i complimenti del CONI, dell'ufficio scolastico regionale, delle questure che insieme alle ASL e ai servizi e al mondo del volontariato dentro l'osservatorio si confrontano e si mettono insieme le esperienze sotto diversi punti di vista. Un'esperienza importante, un'esperienza pilota e domani sarà la prima volta, la prima regione in Italia che istituisce una giornata ricorrente annuale di contrasto alle dipendenze, una giornata regionale in cui cercheremo di fare sensibilizzazione. All'incontro presenti i questori di Chieti, Pescara e L'Aquila e il vice questore di Teramo, il presidente regionale del CONI e Giuliano Bocchia, dirigente tecnico presso l'ufficio scolastico regionale che ha sottolineato le iniziative e il coinvolgimento degli studenti in tutte le province. Il direttore generale dell'ufficio, il dottor Massimiliano Mannardocci, ha incontrato tutti i presidi raccomandando questa iniziativa e pensiamo che siano più di 4.000 gli alunni che saranno coinvolti. Le iniziative sono di tutti i tipi, ovviamente adatte all'età e alla programmazione. Sono scuole che resteranno senza cellulare, scuole che fanno diretta radio, scuola in cui andrà la pulizia postale, lo psicologo, scolastico. Ogni scuola troverà il modo per affrontare questo che è un problema che noi sentiamo particolarmente. I dati sulla diffusione in Abruzzo delle varie dipendenze da sostanze di natura comportamentare, alimentare e tecnologiche verranno resi noti domani. Sentiamo la dottoressa Michela Moscone, direttore del servizio per le dipendenze patologiche dell'ASL di Teramo, capofila dell'iniziativa. Quest'anno c'è stato un lavoro veramente certosino e complesso che ha visto collaborare insieme, appunto in sinergia, come sarà il convegno di domani, la Regione, i quattro servizi per le dipendenze delle ASL e i diversi responsabili degli altri servizi di prevenzione e delle altre aree di prevenzione. Quindi in un lavoro multidisciplinare e intersettoriale. Questo perché? Perché chiaramente anche purtroppo in seguito alla pandemia noi abbiamo avuto un aumento dei casi legati sia al disturbo di uso da sostanze che ahimè dei comportamenti patologici, quindi di dipendenza. Si è abbassata ulteriormente l'età purtroppo del primo uso, quindi il nostro impegno sarà per i prossimi anni sia nelle scuole e sia all'interno delle aziende.